San Marino Dopodiché i predecessori consegnano loro le sciarpe, semplice ma significativa cerimonia di investitura a cui si aggiunge la simbolica trasmissione delle chiavi della città. Il giuramento è stato preceduto da una funzione in Duomo. Dei due reggenti, uno è scelto tra la nobiltà e uno tra il popolo. Il corteo sfila ora attraverso la città, un giro non lungo e i magistrati prendono possesso della loro capitale che è quasi intero il loro stato. Un nembo dell'Italia comunale perpetua qui i suoi giorni, fedele all'antico, aperto al nuovo. Brillano nel saluto le sciabole della guardia nobile a cui fa riscontro il saluto della milizia. Colleen Colleen Grazie.